Oggi con le nostre telecamere siamo a Caslantino, l'ultimo comune della provincia di Foggia al confine col Molise. Siamo sui Monti Dauni, siamo con il sindaco Graziano Coscia per denunciare l'ennesima cattedrale nel deserto della Capitanata. È il caso di dire, sindaco, c'era una volta un bello stello qui a Caslantino. Poi perché è finito in queste condizioni? Beh sì, noi abbiamo trovato questa struttura nel 2019 praticamente già abbandonata, era stata utilizzata per l'accoglienza e da quel momento in poi non è stato più possibile recuperarla. Avremmo voluto e abbiamo fatto sì di inserirla nel piano nazionale di ripresa e resilienza col progetto del Volo dell'Angelo che purtroppo non è stato finanziato. Quindi ancora una volta ci siamo visti negare una possibilità di crescita, una possibilità di recupero di una struttura davvero molto bella che potrebbe essere utilizzata per fini turistici. Oggi invece che cosa pensate di fare? Oggi le possibilità, io ne vedo tre, quella di insistere su quello che può essere appunto il settore turistico e quindi ancora con il Volo dell'Angelo, oppure poterla convertire in una struttura residenziale per anziani, anche se uno dei problemi da risolvere oltre a ristrutturare l'intera struttura è quello di dare una viabilità più sostenibile di quella che c'è ora. Quindi un domani potrebbe nascere una sorta di albergo, un ostello per ospitare quante persone? Perché è abbastanza grande? Beh almeno 30 persone sicuramente se non di più perché è strutturato su tre livelli di cui due sono camere e uno è appunto cucine e sala da pranzo. Vi è un punto bar e quindi potrebbe essere una struttura turistica a tutti gli effetti. Ma perché tanto degrado? Beh sicuramente il punto diciamo dove è posizionato non permette un controllo assiduo da parte nostra e sicuramente appunto molti si sono divertiti a distruggere o a portare via quello che ancora di buono c'era. Quindi se dovesse capitare l'occasione buona magari con un bando con un progetto finanziato dall'Unione Europea piuttosto che dalla regione Puglia voi siete pronti a recuperarlo immediatamente? Noi siamo prontissimi a recuperarlo bisogna solo che chi appunto è più alti e posizionato a più alti livelli ci dia la possibilità di farlo quindi di concederci un finanziamento per inserirlo in una rete turistica quanto meno. Sindaco perché non si fa più il progetto del volo dell'angelo sull'acqua sul lago di Occhito? Allora al momento era stato inserito nella linea B dei Borghi sempre nel piano nazionale di riprese e resilienza purtroppo diciamo il nostro progetto non ha trovato accoglimento in quanto non si è posizionato tra quelli finanziabili ma questo non significa che noi ci arrendiamo perché comunque stiamo insistendo anche con la regione vi è stato già un incontro anche grazie alle aree interne dove probabilmente si recupereranno alcuni progetti e io mi auguro che questo sia uno di quelli. In che cosa dovrebbe consistere questo progetto? Allora il progetto non è semplicemente il volo sull'acqua che appunto volgarmente diciamo bensì è un progetto un più ampio che riguarda il patrimonio archeologico del comune di Carlantino metterebbe in rete alcuni siti di archeologia e creerebbe una masseria didattica e allo stesso tempo quello che sarebbe l'attrazione fondamentale appunto il volo sull'acqua che è una particolarità e in tutto questo ovviamente sarebbe inserito l'ostello della gioventù, il recupero dell'ostello della gioventù che appunto può ospitare fino a 30 persone se non oltre. Una sorta di ponte ideale tra Puglia e Molise. Sì 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 una sorta di ponte ideale tant'è che io l'ho voluto anche solo così in modo immaginario nel murales che si trova qui a Carlantino all'entrata del paese questo ponte fatto di libri e fatto di cultura ed è un legame forte anche con il Molise.